Ti insegno come lanciare la torta. Adesso io faccio lo struttore. Allora prendi il laccio e lo tieni così. Lo metti qua, in questa posizione. Dopo lo giri di qua. Fermo. Abbasso. E dopo incominci a stringere forte. Stringere forte. Ecco fatto. Adesso lo prendi qua e lo tieni così. Fai il giro, due giro. E lo tieni così. Mentre lo tieni così, fai il giro e la punta va giù. Vai. Via. No, dai. Come facciamo? Tu che la passi. Tu che la passi. Tu che la passi. Peresini. Prendila. Grazie. 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 Grazie.